Ancora scenari ipertecnologici ma nel campo della medicina con il robot Da Vinci. Andiamo al Policlinico della Federico II di Napoli con Valeria Accapezzuto. Tra le 83 installazioni in sale operatorie del sistema robotico Da Vinci in Italia c'è il gruppo robotico multidisciplinare del Policlinico della Federico II. Sì abbiamo il robot di ultima generazione, un quattro braccia XI ma soprattutto ha la doppia console che permette quindi di poter formare i nostri giovani. È un centro multidisciplinare che vuole rispondere a tutte quelle che sono esigenze della nuova chirurgia robotica. Che cos'è Icaros? Icaros è un centro interdipartimentale che contempla la collaborazione tra due dipartimenti della scuola di medicina e il dipartimento di ingegneria elettrica e tecnologia di informazione e ingegneria. In pratica accanto alla parte clinica, robot clinico che avete visto, c'è la parte di addestramento, di training che è il punto di contatto tra i chirurgi e i tecnologi e gli ingegneri. Questo che vedete qua è un muletto nel senso che è un sistema Da Vinci di generazione precedente che viene utilizzato da noi per cercare di migliorare quello che è lo stato dell'arte della tecnologia robotica per quanto riguarda la sensazione del chirurgo che oltre a vedere potrà essere in grado in un prossimo futuro di sentire la consistenza del tessuto. Ecco, quindi questo è proprio l'esempio tipico di interdisciplinarietà. Assolutamente e tengo a dire che questo è il primo esempio di collaborazione tra medicina e ingegneria a Federico II e tra l'altro quello che mi preme anche sottolineare è che questa struttura aperta fa parte di un protocollo della casa costruttrice del robot che riguarda 20 laboratori top in tutto il mondo 6 di questi sono in Europa e 3 di questi sono in Italia e uno è a Napoli. Ma a manovrarli è pur sempre il chirurgo? Sì, sfatiamo una volta per tutte, non è che opera il robot, è il robot guidato dal chirurgo magari, forse un giorno ci arriveremo, ma è sempre alla mano del chirurgo che guida il robot.